questo appuntamento è offerto da yukiko perle per sempre collezione oro brillante oro gel la meraviglia di ogni giorno da nuova arredo il tasso zero vero continua fino al 30 novembre da nuova arredo ci sono sempre buoni motivi per sentirsi a casa forte classico pane di semola leggero fragrante che è il colore del sole so che è buono perché lo faccio io ben tornati ben tornati a buon pomeriggio e poi c'è il maestro paradesi quindi buon pomeriggio a tutti amici ben trovati alla musica vero meri buon pomeriggio michele stefano allora puntata ricca di argomenti di musica naturalmente di personaggi sorprese gossip e parleremo soprattutto della rottura tra il ministro salvini elisa isoardi abbiamo delle notizie esclusive ecco ricordate separati e per a trovarci una grande signora della tv italiana guardate un po guardato è lì sì 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 è proprio lei emma a coriandoli ecco ma guardi ben trovati benvenuto come sei fatto grande ecco per dire insomma è passato il tempo ha sviluppato come sta bene grazie 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 bene bene ma che bel ragazzone grazie sicura ha sviluppato anche lei si da tanto tempo ma bene avremo modo di chiacchierare più tardi posso stare qua? sì è un piacere come no non do fastidio ma no al contrario voi fate finta di niente bene esatto allora intanto meri chi sei oggi in cucina vado in cucina così lo presento anche alla signora Coriandoli Massimo Buono ciao Massimo buon pomeriggio nuovo chef ciao benvenuto grazie nella nostra cucina e qui a buon pomeriggio avremo modo di conoscerci poi naturalmente durante la puntata certo sei di Gravina in Puglia Gravina in Puglia direttamente dalla Murgia esatto ci prepari un piatto tipico di quella zona o un tuo cavallo di battaglia? sì chiamiamolo cavallo di battaglia la seconda esatto perché per i primi piatti mi piace preparare i primi piatti quindi ho deciso un primo piatto e cosa facciamo di buono? quest'oggi faremo un piatto di un primo piatto a base di pasta di grano saraceno sì con delle verdure è indicato per chi ama il benessere e quindi mangiare sano e allo stesso tempo mantenersi bello leggero leggero è facile da preparare? lo vedremo insieme certo solo vivendo lo scopriremo ci vediamo tra poco naturalmente grazie e vedo già Michele pronto in salotto con la signora Coriandoli si 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 questo è lo spazio dell'amore guarda che bella frase guardi che frase bellissima di qualsiasi cosa siamo fatte le nostre anime la mia e la sua sono la stessa cosa mamma che calore che mi è venuto è una frase di una scrittrice importante Emily Bronti non deve essere italiana no no non è italiano non è italiano e questi ragazzi hanno fatto propria questa frase e verranno qui a raccontarci la loro storia giovanissimi non si sono mai più lasciati conosciamoli con questo video grazie a tutti 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 che bello eccoli qua Angela Vito lei chi è? bella che emozione è stata di vedervi? bella bella una bella emozione una bella emozione non hai passato molto tempo no no quanto tempo è passato? sei mesi circa circa se più se meno qualche mese ad acqua via delle fonti e parlatevi un pochino di voi tu di che ti occupi? ora sono casalinga sono in cerca di lavoro sono estetista e invece Vito? io sono infermiere professionale infermiere professionale avete visto c'è la signora Coriandoli che mi sono commossa è bellissima allora ti ricordo il mio matrimonio comunque bravi è andata molto bene perchè poi loro si erano conosciuti un po' di anni fa quanti anni? si nel 2009 quindi nove anni fa e com'è stato? è casuale? molto casuale molto casuale che cosa è successo? un colpo di full? per me la curata ah si eh lui può essere vediamo cos'è successo? no un amico in comune ci ha presentato vi ha presentati e lì c'è stato subito qualcosa oppure no? no nulla praticamente nulla savate ognuno sulle sue giusto? ma ti è piaciuto lui? no inizialmente no no non lo salutavo neanche quando lo incontravo carina bello bello bellissimo mi ha fatto un po' sudare tu invece secondo me sei rimasto colpito da lei mi dava fastidio questo questo suo atteggiamento allora mi hai fatto però non solo per quello ti ha colpito ti ha colpito per certo sei bella una bella ragazza poi che è successo? e niente poi ad ottobre ci siamo ora incontrati qualche mese dopo qualche mese dopo qualche mese dopo sì perché ci siamo conosciuti ad agosto ok ad ottobre ci siamo incontrati a Bari lui aveva appena era appena uscito dall'università finito lezione dall'università io invece dalla mia scuola di estetica e dove eravate? all'estramurale Capruzzi alla fermata dell'autobus alla fermata dell'autobus aspettavano lo stesso autobus per tornare ad Acquaviva ad Acquaviva e lì a questo punto anche se ti stava non troppo simpatico non lo salutai comunque e tu invece che hai fatto Vito? ho sbagliato il suo nome spettacolare spettacolare proprio cioè come l'hai chiamata? Angelica la chiamavo Angelica perché la vedeva Angelicata esatto donna Angelicata però in realtà si chiama Angela e quindi ancora le sue azioni sono precipitate no? e io poi mi girai e dissi ma è con me? lui mi disse sì e ci avvicinammo e iniziamo a parlare ah però avete cominciato a parlare con la scusa dello sbaglio del nome e ai telefoni quando ci era forzato diciamo stato sullo stesso pullman era forzato era forzato inevitabile allo scambio dei telefoni quando ci siamo arrivati dopo poco o molto? no no sempre lì quando arrivamo ad Acquaviva e ci salutammo ci scambiamo i numeri di cellulare e lui cominciava a farti meno antipatia sì che c'era? era un po' più simpatico era un po' più simpatico mi colpì proprio il suo atteggiamento la sua simpatia mi fece sentire subito a mio agio ecco da qui che nasce un sentimento ecco vedete che bello cioè è stato antipatico poi invece man mano è passato un viaggio in autobus insieme che è cominciato a diventare interessante interessante e quando è che vi siete rivisti poi? poi l'ho contattata io l'ho visto ah hai visto? per chiedergli come stava vittoria completa che ero visto su tutti i fronti che ha chiamato Angela che tu avevi chiamato Angelica però l'ha perdonata e che scusa ti sei inventata? no volevo solo sapere come stava che faceva solite cose cose però lui poi mi ha chiesto di uscire lui ha l'occhio malandrino stia attenta lei perché l'occhio lo nasconde con l'occhiale fa un po' così gattone è un po' gattone è un po' gattone è un po' gattone senti questo appuntamento è stato importante poi che lui ti ha chiesto questo sì 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 poi quando ci siamo rivisti in realtà c'era la partita aspetta aspetta cioè uno organizza veniva dopo la partita uno organizza un incontro sentimentale però c'è la partita che partita era? che partita era? la Real Madrid la Real Madrid lui ti fa ovviamente l'ha scusato che ha fatto? sei messo a sentire la partita abbiamo sentito la partita in macchina ecco disastroso però fortunato eh si ha superato quello veramente è la prova contraria è la prova contraria tu hai subito e poi? e poi finita la partita siamo scesi dalla macchina ha vinto il Milan ha pure vinto il Milan 3 a 2 scesi dalla macchina ci siamo fatti un giro abbiamo parlato un po' avete parlato? basta era la prima sera basta o bacio? basta basta ha fissato già la data del matrimonio no ancora non l'aveva neanche baciato perché una volta si faceva così si è quando ecco non ci si toccava eh no io posso dire le do il consiglio non si spogli mai davanti al suo marito ma io sono sempre rimasta in sottoveste ah 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 è così sì perché certe cose non si possono fare ah ecco va beh questa è insomma una visione possibile l'esperienza allora invece quando è che l'hai baciata? cioè questo lo devi raccontare qualche giorno dopo ci siamo rivisti siamo usciti di nuovo e lì è scoccata la minacciata? no 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 ah ecco no tante volte il giorno dopo è stata una cosa consenziente sì sì è anche bella tante volte è anche romantica e lì vi siete messi assieme sì sì e avete deciso di andare a vivere insieme o di vedervi invece periodicamente? no 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 avevamo ancora vivavamo ancora con i nostri genitori quindi ci incontravamo la sera uscivamo insieme è bello quando è che sbuca la nostra bella eh? quando è che? due anni fa due anni fa non eravate ancora sposati però stavate insieme e che cosa avete deciso di fare? andare a un canile per adottarlo? sì per adottarlo ma che carini è veramente è un gesto bellissimo veramente ha portato una gran fortuna eh ha portato fortuna ma soprattutto lei ha scelto noi ha scelto voi cioè che ha chiesto che fa? vi ha salutato allora quel giorno quando siamo andati presso il canile a videre ecco diciamo sì lei era in compagnia di un barboncino molto attivo però lei ti guardava con quello sguardo no certe cose no televisione cancellate cancellate malgrado il barboncino ci guardava con quello sguardo come a dire voglio venire con voi voglio venire e qui e così è stato e che cos'è l'amore di una cagnetta per cose stesse? è una cosa indescrivibile è veramente bello è bello cioè avere lei è tutto pensate che bello e avevate già deciso di sposarvi quando avete preso bello oppure ancora? no no non ancora non ancora e quando è che l'avete invece programmata la vostra meravigliosa unione? dopo un bel po' eh? no no va bene parlavamo già comunque perché comunque siamo grandi eravamo grandi ma lui ti ha fatto una proposta? si si raccontamela come l'ha fatta? niente qualche giorno prima mi sono recato con amici e parenti alla scelta dell'anello di fidanzamento poi ho organizzato una cenetta romantica a casa dei miei da soli io e lei a casa dei tuoi senza però che ci fosse senza i miei ho sfrattato i miei praticamente quel giorno avevi l'anello avevo l'anello e l'anello c'è? si si e quello lì lo facciamo vedere bello com'è stato? che ha fatto? si è inginocchiato e mi ha chiesto mi vuoi sposare? e tu ti sei commossa? si 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 sono commossa e gli ho detto si gli ho detto si che bello quanto tempo di finanziamento avete? quando è durato i vostri finanziamenti? allora dal 2009 9 anni circa 9 anni avete pensato alla casa? si 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 a lavoro vi hanno aiutato i vostri genitori? si si poi il lavoro che tu allora ancora anche lavoravi adesso sei in un periodo in cui non lavori si si sono incerto insomma sono tutte cose che sono importanti per poter programmare finalmente ma è vero che poi comunque una volta stabilita la data lui ti ha fatto un'altra sorpresa è vero? con gli amici e ha organizzato ah si si la serenata si si questa è una foto signora Coreandoli che ritrae lui che cosa hai fatto? raccontala per noi perché non è che si capisce benissimo niente praticamente abbiamo contattato un'animatrice che organizza anche eventi del genere e abbiamo instaurato una scenetta tipo consegna della posta da c'è posta per te ecco quindi compostino allegato ti ha fatto la sorpresa però bella divertente molto divertente senti ma è stato complicato organizzare poi invece i matrimoni a parte queste cose un po' più ludiche abbastanza il matrimonio sia abbastanza stressante il matrimonio sia abbastanza stressante stressante? no diciamo che io con l'attività lavorativa ero poco avevi l'alibi per non fare nulla si ecco diciamo così e quindi siamo arrivati a quel fatidico giorno il 15 maggio del 2018 ad Acqua Viva delle Fonti ecco eccoli qua io di amarti e onorandovi tutti i giorni della mia vita io Angela accolgo te tutto il mio sposo con la grazia di testo prometto di esserti fidele sempre nella gioia e nella vita nella salute e nella mente e di amarti e di orarti tutti i giorni della mente Angela ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fideltà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Vito, ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fideltà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che bello, che bella scena il mare meraviglioso senti però che emozione quando quando lo scambio degli anelli non esce la voce no, mi sono emozionata ma anche tu però e anche adesso a rivederti è vero? si, molto, parecchio qua siamo tutti commossi pure la signora accogliendo che è una forte di suo però noi abbiamo fatto il viaggio dopo chiediamole il viaggio di no ah, chiediamolo da giorni vi siete portati bella no, non l'abbiamo fatto ancora ah natale avete programmato? si, si dov'è? a Parigi ah, città romantica a Parigi non è in Italia, vero? no, no, no tante volte lo abbiamo spiegato? io l'ho fatta a Venezia non lo consiglio perché è tutt'acqua non potevano asfaltare qualcosa è famosa per questo ah, ma siamo famosi per queste cose perché c'è tutta l'acqua anche adesso super bene fatti una gettata di cemento ci può dare un pullman qualcuno purtroppo qualche volta è vero non lo so diventa troppo alta l'acqua come in questi giorni ecco, fai la strada e finita ecco, però non è esattamente quello che bisognerebbe fare allora andrete a Parigi e poi chissà la famiglia crescerà avete progetti? sì, naturalmente sì, sì, però per ora vogliamo goderci un po' quando andate a Parigi? mi scusi, sono un po' ma perché? quando andate? il 22 dicembre ah, a Natale vanno a Natale sì, proprio alla settimana di Natale ecco, mandate un giornalista qualcuno a seguirmi eh, bello, potremmo venire noi ha ragione la Sia Corante un bel servizio vi farebbe comodo preferire essere la privacy magari un po' facciamo spendere poco tanto ma vi portate bello? no, no no, bello, non può venire ecco abbiamo la prova del nove quanto veramente sono una coppia unica non vedo l'ora ci sono le domande domande per Vito prima di tutto qual è il motivo per cui litigate più spesso? io immagino che non litigate molto che diche non litigate però Angela ci ha detto la ragione per la quale più frequentemente capita perché succede purtroppo il mio disordine è vero ha detto già disordinato che fai? per esempio o stamattina che fai? eh, ha lasciato un po' di cose in bagno in disordine in bagno eh quello è un classico di noi uomini proprio questo disordinato e tu sai cosa ha detto Vito di te il motivo per cui litigate più spesso? penso sia lo stesso lo stesso anche sono disordinati tutti e due e quindi immagino cos'è casa vostra deve essere bella no, no, io non sono disordinata io litighiamo sempre perché perché il disordine è suo è il disordine la colpa è comunque sempre di Vito è sempre dell'uomo però sono d'accordo e Vito lo accetta sì allora il regalo fatto a Vito che gli è piaciuto meno vediamo se lo sai tu hai fatto tanti regali naturalmente ne ne fai tanti però ce n'è uno che insomma proprio l'hai toppato lui ha detto ma che mi ha regalato? ma che mi ha regalato? eh non è guarda lì che tenevi perché sono lì che si confidano consiglio diglielo, diglielo tu primo Natale primo Natale e chi si ricorda? che dolce non se lo ricorda che cos'era? portafoglio e com'era? era un semplice portafoglio della Carpia diciamo tra tutti i regali che lei mi ha fatto quello è quello che diciamo meno riuscito un po' meno degli altri però porta fortuna ha portato fortuna ha portato fortuna ha portato fortuna meno male e tu lo sai qual è il regalo che lei ha meno gradito? sempre primo Natale collane orecchini ah però ci ha preso? e com'erano? a che forma erano? avevano la forma di un delfino di delfino la forma di delfino e poi mi aspettavo qualcosina in più dato che a Natale è anche il mio compleanno quindi pensavo era il primo anno un paio di mesi è stato un braccio corto e in più sti delfini vabbè il luogo speciale vediamo se corrisponde il luogo speciale che ha indicato lui per voi credo la nostra casa la vostra casa e anche lui è uguale tutti e due dicono la stessa cosa spettacolare il loro luogo speciale e la loro casa spettacolare ultima domanda Angela vuole dei figli se si quanti? Angela se si uno risposta esatta esatta Edito vuole dei figli se si quanti? almeno due risposta risposta esatta ma siete una coppia meravigliosa avete vinto i gemellini i gemellini alla grande anche la prova del 9 non spererei i gemellini però fantastici fantastici allora vogliamo salutare questa coppia bellissima con la loro canzone speciale maestro perché loro hanno un lento è vero che avete ballato insieme la prima volta della canzone della loro vita qual è? You are not alone di Michael Jackson bravissima allora ve la dedichiamo con tanto amore grazie did you have to go? and leave my walls so cold? every day I sing and ask myself how did the love wait? something whispered in my hand and said and you are not alone for I'm here with you to you far away I'm here to see for you are not alone for I'm here with you to you far away I'm here to see I'm here to see but you know the love oh no 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 Che meraviglia, che meraviglia, grazie a Stefano Pallandresi, Angela e Vito come hanno ballato, come quel giorno, è vero o no? Che emozione, io vi affido bella, è rimasta con me, vi guardava, vi guardava fissa Che meraviglia, grazie per averci raccontato questo straordinario bellissimo amore, tanti tanti auguri per il vostro futuro E adesso, guardate un po' chi ci è venuto a trovare, il nostro amico Enzo Fischetti, più conosciuto come professore Di Made in Sud, buonasera, grazie E per tutti gli amici che sono a casa, il professore ci terrà una lezione di napoletanità, giusto? Sì, grazie, un po' di emozione, torno a Telenorba dopo 18 anni, facevamo 0 a 0 Allora, io faccio una premessa, io non sono napoletano, io sono nato a Scandici, in provincia di Firenze E sono stato a Firenze fino al 70, giusto in tempo per vedere l'alluvione Poi mi sono trasferito a Napoli e nell'80 ho visto il terremoto Ah, andiamo bene Non mi trattengo molto qui, sono tranquilli, vorrei trasferirmi a Catania, sotto l'Etna, ma il sindaco non ci vuole Allora, il napoletano non è un dialetto, è una lingua, le sue regole grammaticali fisse Vi faccio qualche esempio Prima di tutto, ci sono parole che vanno assolutamente ripetute due volte Altrimenti non si riesce a dare il giusto senso alla frase Per esempio, lentamente, chiane, chiane Adagio, che è molto simile, non è chiane, chiane, ma cuonch, cuonch Completamente, san, san, meticolosamente, pil, pil Disteso, luong, luong, che se uno sta disteso rigidamente diventa tisic, tisic Difficoltà maggiori siamo con all'ultimo momento, ngan, ngan E di nascosto, aum, aum Ah, bello Poi gli avverbi di tempo Adesso, mo In questo momento, mom, mo Basta ripeterlo due volte E la stessa regola vale anche per il passato Allora, tan, in quel momento, tan, tan Poi ci sono gli aggettivi possessivi Mio, tuo, suo I napoletani che fanno? Prendono l'iniziale dell'aggettivo e lo mettono alla fine della parola stessa Per esempio, mio padre è patm Tuo padre è patet Bisogna fare attenzione perché suo padre non è pates Mopatechil È irregolare la terza persona I napoletani sono grandi per le iniziali di parole Anche qui la regola è fissa, le parole iniziali per P diventano CH Per esempio, piove, chiove Piangere, chiangere Piombo, chium Le parole iniziali per G perdono la G iniziale Non si sa che a fine fa Giorno, iurna La gatta, iat Genero, uienner Ma l'apice sono le parole iniziali per S Che in napoletano prendono la N apostrofata Sporco, nzvat Sposato, nzurat Sopra, ngop Sugna, nzogna Poi, i napoletani hanno un verbo unico al mondo È il verbo eccere Cioè, eccere significa eccolo Noi in italiano, quando vediamo arrivare una persona da lontano Come diciamo? Eccolo I napoletani distinguono se è singolare o plurale Ma soprattutto a che distanza si trova sta persona All'indicativo presente il verbo eccere fa O i canno, il loco, il lan Che al plurale diventa i biccan, i biglioche, i billan Vengono tutte e sei persone In napoletano è più preciso dell'italiano Però a volte non si capisce niente Io una volta feci un viaggio a Milano con un amico Lui in dialetto stretto mi disse Per la strada di Pavia Pago io Disse Pavia e Pavia Pavia E se è capito sull'ISP Ma ero Pavia al cubo No, ma in napoletano ha una capacità di sintesi eccezionale Guardate In italiano Scoprire frequentazioni comuni dopo un lungo periodo di tempo In napoletano Ascia paventa Meccanismo congegno elettronico che non funziona Cube Cercare di convincere una persona a fare un'azione Che altrimenti non avrebbe mai commesso A babbia E poi molti mi hanno detto Vabbè ma adesso sono tanti anni che stai a Napoli Avrei imparato in napoletano No, perché poi Loro le parole le traducono in un modo Quando si accoppiano con altre Non si traducono più nello stesso modo Per esempio Bambino e creatura Ma Gesù bambino non è Gesù creatura O bambaniel Dur e tuost Ma duro di comprendone diventa capi e chiuovo Fermo e fermo Ma stati fermo diventa ciunct Dente e regno Ma mi vado a tirare un dente Si dice Ma va che a tirare una mola La mola non è il molare Tu ti puoi tirare un canino Un incisivo Ti puoi sempre a tirare una mola Io ho conosciuto gente che sta tirando 40 mola Perché forse va a posto a pagare una multa Ma ci tirate una mola E poi veramente chiudo con la difficoltà maggiore Quelle che per me erano i vetri delle finestre A Napoli sono anche le radiografie Ma va che a fin l'astra In l'astra Grazie Bravissimo Bravo Enzo Bravo Enzo Bravo Enzo Molto bravo Complimenti È stato un piacere averti qua Grazie Grazie davvero Allora Signora Coriandri ha visto che bravo Che bravo È italiano lei Ha visto però Facciamo le canzoni in italiano Eh sì Facciamo un'idea Oggi la classifica è un tema molto particolare Anche molto sensibile Perché facciamo le canzoni contro il razzismo Perché? Questo perché? Perché il 6 novembre del 62 L'ONU Le Nazioni Unite Si espressero in maniera molto decisa E determinante Affinché si desse uno stop all'apartheid L'apartheid come tutti sappiamo È il termine usato per determinare Quella rigorosa segregazione razziale Che subivano la gente di colore Proprio in Sudafrica E anche perché insomma In questi giorni proprio Un fatto accaduto a Napoli Quella signora Maria Rosaria Bravissima quella Che ha dato un po' di respiro Per fortuna Che ha detto adesso mi devi fare Lezioni di Napoletano Che gli ha detto Perché questo Spieghiamo che c'era un giovane Che se l'era presa Con uno del Ghana Con dei pakistani Di colore Sì E che inveiva contro Senza motivo Questi lo guardavano Come insomma Aveva un po' Delirato E questa signora gli ha detto Tu non sei il razzista Tu sei strunz E poi dicendoli Guarda Questo l'abbiamo capito Se lo sento bene Lo sento bene E poi gli ha aggiunto Anche guarda che piglia Ombrelle Tosca Senkav Per gradire E tenzalla nisch Ecco Ti faccio perdere la memoria Esatto Bravissima questa signora Che ha avuto Un sacco di like Sui Infatti Perché è aria pura Aria In questo momento Dove c'è Sappiamo Un livore Tornato Questo germe Il razzismo Non si capisce come mai Comunque affrontiamo Questa classifica Anche in modo divertente Perché comunque Ci vuole anche ironia Da dove iniziamo? Iniziamo da una canzone Che è talmente antirazzista Questa canzone Che il protagonista Del film Voleva diventare nero Perché era invidioso Delle voci di Wilson Pickett James Brown Tutti i re del soul Del ritmo in blues E lui voleva diventare nero Perché voleva diventare come lui Comunque La canzone è famosissima Anzi possiamo anche Cantare Anzi Sì Ecco la sua Eh eh Dimmi Wilson Pickett Eh 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 Dimmi tu James Brown Questa voce Dove la trovate? E signor King Signor Charles Signor Brown Io faccio tutto Per poter cantare come voi Ma non c'è niente da fare Non ci riuscirò mai Lo maledetto colore di pelle Che non va Sì Meglio perché Io vorrei Vorrei la pelle nera Vorrei la pelle nera Vorrei la pelle nera Ora la pelle nera Ora la pelle nera Ora la pelle nera canzone di Rino Gaetano che si chiama Mio fratello e figlio unico. Bellissima quella lì. Mio fratello e figlio unico perché non ha mai trovato il coraggio ad operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent'anni perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati mal pagati e frustrati Mio fratello e figlio unico sfruttato, represso, calpestato, odiato E ti amo Mario Mio fratello e figlio unico, te riso, frustrato, picchiato, derubato E ti amo Mario E ti amo Mario Stefano Palatresi Bravo Bravo Ma è vero che al posto di questa canzone volevi cantare Cara Italia di... Sì, quella di Gali Bellissima canzone Che faremo, insomma non c'è stato il tempo di provarla Però bellissima, infatti mi piace moltissimo Allora aspettiamo anche quella Andiamo al terzo posto dove c'è un mio amico Michele Zarrillo che fece nel Sanremo 97 Mi ricordava prima il grande Enzo Eh sì Una canzone molto bella che insomma anche se non diciamo dichiaratamente parla di episodi di razzismo però fondamentalmente c'è un sottotesto diciamo in questa canzone La canzone è L'elefante e la farfalla Sono l'elefante e non ci passo E trascino lento il peso addosso Vivo la vergogna e mangio da solo E non sai che dolore sognare per chi non può mai Una farfalla sei Leggera e libera su me E mai Non ti raccigerò mai Mi spezzi il cuore e te ne vai Lassù Dentro di me Dentro di me Dentro di me Ho un cuore di farfalla E non potrai E non potrai E non potrai E non potrai Vedere mai Quanto lui ti assomiglia Dentro di me Dentro di me Dentro di me Dentro di me Ho un cuore di farfalla Che i valutti farfalla E non potrai Bravissimo Senti Emozionati di tutto Con questa bellissima canzone Allora Adesso Con Enzo Fischetti ci vedremo dopo Grazie Grazie Un altro Enzo Invece Michele, Meri Signore Coriandoli Andiamo da questa parte Andiamo all Tivano vogliamo collegarci con Roma con due giornaliste importanti Monica Setta e Giulia Cerasoli di chi? Perché dobbiamo parlare della notizia di oggi, la notizia più importante di cui parlano tutti nell'ambito della nostra rubrica che si chiama Versus, signora uno contro l'altro e in questo caso Versus cioè l'ex coppia del momento il ministro Salvini Versus la Isoar C'è messo con Di Maio? No! Ma che dice? Si sono lasciati Si sono lasciati No, no, per Di Maio Perché dalla parrucchiera stamattina dicevano così Ma no, ma questo è proprio veramente inverosimile Invece, invece su Instagram vede, può leggere anche lei signora c'è scritto cosa spiega, perché guardate questa foto che ha fatto il giro del web è la prima volta nella storia italiana Il giro del mondo Che si vede, il giro del mondo Che si vede un ministro in carica nudo praticamente che è vicino alla sua compagna che è un'ex compagna che spiega la quale spiega non è quello che ci siamo dati scusate a mancarmi ma quello che avremmo dovuto darci ancora e cita questo giovane poeta Joe Evan e dice con immenso rispetto dell'amore viro che c'è stato grazie Matteo e così è che lei ha liquidato la vicenda Giulia, Monica voi da che parte state? Allora Giulia, comincia tu Allora diciamo che io essendo quirinalista e giornalista parlamentare come prima approccio starò dalla parte delle istituzioni però come donna sto dalla parte di Elisa allora la situazione non è tanto parteggiare per uno o per l'altro secondo me io mi sembra strano secondo me potrebbe anche essere che loro si rimetteranno insieme e allora che cos'è tutta questa? una sceneggiata? cioè non è detto no allora non è una sceneggiata è una cosa vera un litigio e una presa di posizione vera però potrebbe a sensazione come io conosco i due protagonisti sia Salvini che io penso che sia veramente innamorato di lei ecco e forse lei lo è ancora anche se ha tante cose potrebbe essere che cioè se ci fosse un colpo di scena potrebbero tornare allora per un minuto poi dobbiamo andare in pubblicità per un minuto vorrei sentire subito Monica Setta per un minuto per favore eh guarda io ti dico la verità che anche io conosco molto bene Elisa e di fatti lei ha fatto una chiacchierata che è in prima pagina della gazzetta del mezzogiorno da voi proprio il giornale come no di Bari per eccellenza infatti oggi hai parlato a lungo con Elisa l'ho incontrata un giudizio sintetico e ti dico secondo me lei per adesso è decisa a non tornare con Matteo anche se Matteo è innamorato lo sappiamo tutti e quindi probabile che lui ancora come dire delle avance agli elefanti ci dobbiamo fermare vi chiedo scusa ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità cercheremo anche di mettere a posto il collegamento audio ma naturalmente la vicenda continua state con noi perché è di questo che parleremo ancora fra poco poi anche la signora Coriando vuole sapere tutto di questo è formata a mano a dopo state con noi rimanete con noi